Tanti gli italiani sopravvissuti al terremoto del 25 aprile in Nepal, fra questi una ragazza di Pineto, una 28enne, Sara Pavone, che oggi può raccontare questa terribile esperienza. Sì, io al momento del terremoto, il 25 aprile scorso, mi trovavo nella valle dell'Antang, in uno dei punti più colpiti dal terremoto del 25 aprile, e mi trovavo con un gruppo di amici per effettuare un trekking, in quel momento avevamo appena passato un ponte che poi è crollato e ci siamo resi conto che era un terremoto perché ad un certo punto c'è stato un boato fortissimo, la terra ha cominciato a tremare sotto i nostri piedi e una nube di polvere non ci permetteva di ritrovarci. Siamo riusciti a salvarci perché ci siamo riparati sotto una roccia, ci siamo abbracciati, io con i miei amici, abbiamo aspettato comunque che il terremoto finisse, è durato quasi un minuto il terremoto. Importante l'aiuto della popolazione locale, mi dicevi. Sì, la popolazione locale, poi quando siamo riusciti a scendere a valle dopo varie peripezie e vicissitudini, siamo riusciti a tornare a Bambù, un piccolo rifugio di montagna. Nonostante il dolore, nonostante aver perso familiari, aver perso la propria casa, il proprio lavoro, erano lì con noi a farci da mangiare, a montare teloni per poter dormire e ci offrirono cibo, tè. Tu nonostante questa esperienza terribile, proprio per ringraziare in un certo senso queste persone che ti sono state vicine, hai deciso di fondare con il tuo ragazzo una ONG proprio per dare una mano. Sì, già prima di tornare, prima di essere rimpatriati in Italia, avevamo l'idea in quei giorni difficili, l'idea di aiutare quella popolazione che tanto c'era stata vicino. E quindi abbiamo fondato questa ONG a Barcellona il 12 maggio, autogestito da tre persone, con l'obiettivo di, prima di tutto, di raccogliere fondi che saranno poi destinati direttamente ai villaggi più remoti e di più difficile accesso dell'area del Langtang, quindi tutto il distretto di Rasua che è uno dei più colpiti.